Ben ritrovati! Oggi prepareremo insieme i gargati. Noi abbiamo pensato poi di condirli con un sugo di ragù. Troverete in descrizione poi il link per preparare un ragù super veloce e davvero molto buono, semplice, proprio il classico ragù della nonna. Noi però dobbiamo preparare adesso i nostri gargati. Utilizzeremo la planetaria Kenwood e il torchio con il gancio appunto per i gargati. Prima di andare avanti però ricordatevi di mettere un like al video ed iscrivervi al canale così potrete rimanere sempre aggiornati anche sulle prossime ricette. Per preparare i nostri gargati, quindi questa pasta fresca, noi utilizzeremo 5 uova e la farina l'abbiamo divisa tra 250 di semola rimacinata e 250 di farina integrale. L'idea è quella di realizzare una pasta che contenga maggior crusca e maggior germe di grano attraverso proprio la farina integrale che è una farina meno raffinata. Utilizzeremo la cappa per unire tutti gli ingredienti nella vasca della planetaria e molto velocemente perché l'impasto per poi essere lavorato nel torchio dovrà essere un impasto farinoso. Quindi adesso andiamo a mettere tutti gli ingredienti nella vasca e vediamo di sfarinarli bene. Ecco il nostro impasto bello sfarinato. Adesso andiamo a montare il torchio e a preparare i nostri gargati. Nel vassoio sopra il torchio cominciamo a mettere un po' del nostro impasto della pasta sfarinata e a farla scendere lentamente mentre il torchio forma i gargati. Fate scendere dall'alto l'impasto. Mi raccomando che sia bello sfarinato perché se è troppo grosso, fa bolo e poi il verme non riesce a prenderlo e a formare i vostri gargati. Alla lunghezza desiderata vanno tagliati e messi su un vassoio leggermente infarinato per evitare che si attachino tra loro. Ecco i nostri gargati. Potete consumarli subito oppure potete lasciarli asciugare ancora e consumarli dopo un paio di giorni. Magari copriteli con un canovaccio in modo che si asciughino ma non siano proprio all'aria. La dose di 5 uova e 5 etti di farina noi l'abbiamo divisa e farà 5 porzioni. Quindi poi vi potete regolare in base a quanti invitati o a quanta pasta vorrete fare. Vanno cotti in abbondante acqua salata per circa 15 minuti. Considerate però che essendo pasta fresca non sarà mai cotta morbida, troppo morbida. Resterà sempre leggermente al dente che poi è la parte anche più buona della della pasta fresca. Ed ecco il nostro piatto di gargati a ragù pronto per essere mangiato. Se vi è piaciuta questa ricetta ricordatevi di mettere un bel like e di iscrivervi al canale per tante altre ricette tutte per voi.